Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, ciao a tutti i fan dell'Orto Dio che è appena diventato itinerante perché la nostra fantastica Icaro adesso è pronta, ci sono i cani, Nico, Giulietta, abbiamo sistemato non una, due, addirittura due protezioni per i cari abbiamo le catene, abbiamo il triangolo, abbiamo lo spray per riparare la gomma se si buca, il gancio per trainarla se si ferma, tutti i documenti, i documenti dei cani, l'acqua, le bustine per la cacca è tutto pronto, finalmente ci possiamo muovere, mi ero stufato di andare in giro da solo senza i cuccioli quindi adesso l'Orto Dio è itinerante grazie alla Icaro, adesso andiamo a vedere se si può fare colora carina questa Icaro però facciamo un viaggio di prova a Roma però quello che ci potrebbe servire è uno sponsor che voglia sponsorizzare la nostra pazza impresa di andare in viaggio in giro per l'Italia con una macchina che va a 65 all'ora e fa 100 km e non va in autostrada ma a parte gli sponsor che quelli se non li troviamo non fa niente, ci sponsorizziamo da soli dobbiamo trovare delle mete, quindi chi è che ci invita? a me e ai cuccioli che siamo dei gran cagazzi in giro per l'Italia così vi raggiungiamo per il nord è facilissimo, Milano, intorno a Milano è molto facile per il sud c'è qualche problemino ma ci organizziamo dai, aspetto che vi chiamate e vediamo quale sarà la prima tappa dell'Orto Dio itinerante ciao cari